Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo delle armature delle corazze che sono state utilizzate nel corso dell'impero romano. Molta gente si immaginerà soltanto questo tipo di corazza come quella utilizzata dai romani, ma in realtà sono molte e differenziano dal tempo e anche dal luogo in cui venivano usate. Per l'età regia i romani erano ancora molto regrediti e proprio per questo avevano preso come modello culturale i greci, i quali a quei tempi erano molto più avanzati rispetto a loro. I greci avevano adottato tutto dai greci, sia la loro formazione da battaglia, ovvero la falange, sia il loro equipaggiamento, risultando per l'essere interamente uguali a loro. Durante l'età repubblicana invece, più o meno a partire dal secondo secolo avanti Cristo, le corazze avevano subito un enorme cambiamento, così come il modo di combattere dei romani, che avevano scartato la falange per passare alla più elastica corte. La corazza che l'impero romano aveva adottata in questo periodo di tempo era la lorica amata, ovvero una comune armatura in maglia. Questa armatura in maglia non era nulla di particolare, proprio perché i romani non sono stati prima a usarla e ne saranno gli ultimi. La lorica amata aveva di particolare il fatto che era rinforzata sul collo, ma era di colore bronzo e aveva generalmente un pinnacolo. Inoltre lo scudo, anche se non era sempre rettangolare, era sempre di dimensioni molto grosse e permetteva di proteggere bene il corpo. Una buona variabile della lorica amata era la lorica squamata. Questa armatura qui veniva usata generalmente nelle parti orientali dell'impero dagli ausiliari romani. Tuttavia non sappiamo bene il periodo di tempo in cui venisse utilizzata generalmente. In età imperiale la lorica amata venne sostituita dalla lorica segmentata. Questa armatura qui era un'armatura fatta al 100% dai romani, nel corso della storia non troverete nessun'altra armatura simile a questa qui. La lorica segmentata proteggeva meglio della lorica amata. Tuttavia aveva dei difetti. Infatti le piastre che formavano l'armatura erano unite da dei piccoli materiali di bronzo o di rame, i quali molte volte si rompevano rendendo l'armatura inutile. Quindi praticamente, nonostante fosse molto resistente per resistere ai colpi, alla lunga si usurava e perdeva dei pezzi. Una bellissima variabile all'interno della lorica segmentata che prevedeva una protezione per le braccia in acciaio che poteva essere attaccato all'armatura. Questa qui è veramente una figata, perché non pensavo neanche che esistesse fino a due giorni fa. Come avete potuto notare, tutte le armature romane, ma anche generalmente tutte le armature del mondo antico, proteggevano poco. Ovvero, proteggevano sì, bene, ad esempio la lorica amata era un'armatura in maglia che proteggeva interamente il busto. Tuttavia, i romani finivano sempre, a parte i rari casi, ma generalmente sempre, con l'avere le braccia e le gambe esposte, oltre alla faccia e altre parti della testa. Proprio perché nel mondo antico le armature pesanti venivano usate molto raramente. Inoltre, ciò viene anche confermato dalle armi, che come potete notare il Gladio, per esempio, sono tutte quante armi piccole. Quindi le armi dovevano essere piccole perché non erano necessarie poter trapassare le corazze pesanti, proprio perché le corazze erano leggere. Nel Medioevo, invece, le corazze e le armi, diventando le corazze molto più spesse, le armi diventeranno grandi anche loro, come si può anche notare dalle mazze, dagli spadoni e dalle alabarmi. Ci sono tuttavia ancora parecchie controverse per quanto riguarda l'impero romano. Molta gente era convinta che si portassero via due pilum, ovvero due giavellotti da lanciare contro il nemico. Altri dicevano, invece, che il giavellotto da portarsi dietro era solo uno e che la seconda lancia che si portavano dietro era una lancia da urto, ovvero da usare in combattimento corpo a corpo. E non è l'unica, probabilmente questo qui dipendeva di sicuro dall'età in cui venivano usate. E abbiamo anche un'altra armatura, variabile della lorica amata e della lorica squamata, che era lorica plumata. L'acqua della quale non si sa quasi niente. Si pensa, o almeno leggendo alcuni forum inglesi, avrebbe dovuto essere un'armatura a annelli. Tuttavia, sopra aveva delle piccole fascette il cuoio, simile a delle piume, che le avevano dato questo nome. Era un'armatura generalmente molto avanzata, tuttavia non si sa quasi niente, quindi rimane una lorica amata praticamente. Un'armatura che ha persistito nel corso dell'impero romano per tutto questo tempo era stata la lorica musculata. L'orica musculata era quella lì che di solito si vede sempre all'interno dei film di Asterix e Obelix. Era formata dall'unica piastra in ferro che proteggeva interamente il petto. Quest'armatura qui faceva bene il suo lavoro, ovvero tenere in vita le persone importanti in una legione, proprio perché era stata usata sia dal periodo repubblicano fino al periodo imperiale, quindi per veramente molto tempo, quindi non c'è dubbio che facesse bene il suo lavoro. Le volte, dalla lorica musculata, pendevano dei piccoli brandelli di pelle o di cuoio. Questi brandelli di cuoio qui, il quale il nome non me lo ricordo subito ma me lo scriverò nel video, erano, nonostante potevano sembrare inutili, in realtà erano utilissimi, perché potevano anche senza problemi parare un colpo di spada. Quei pezzetti di cuoio lì potevano imparare un colpo di spada, notevole vero? Nel tardo impero romano e nel periodo precedente alla sua caduta, c'era stato un grande periodo di crisi economica e militare, proprio per questo molte volte gli elmetti cominciavano ad essere molto più aperti e anche di materiali molto più, non dico scadenti, ma più leggeri, cominciavano ad essere costruiti in modo da privilegiare la leggerezza e l'economicità alla potenza difensiva, proprio perché la gente diceva perché dobbiamo dare ai nostri legionari delle armature buone e molto costose se poi si fanno uccidere in ogni caso, diamogli quelle da poco e il problema è risolto. In effetti l'armatura cominciava a non essere più lorica segmentata, ma Bessi stava ritornando con la classica armatura d'anelli lorica amata. Inoltre lo scudo non era più lo scudo rottoangolare, ma Bessi era uno scudo ovale oppure tondo, che era stato preso dagli popoli germanici che stavano sempre più entrando all'interno del confine romano e lo stavano sempre di più influenzando. La cavalleria generalmente era vestita sempre come un legionario romano di quel tempo, tuttavia di solito lo scudo che tendevano ad avere era ovaloide e molto più grande degli scudi rottoangolari, così facendo che il cavaliere, essendo lo scudo molto più grande, aveva il corpo completamente protetto e anche la gamba. Il video finisce qua ragazzi, spero vi sia piaciuto, lasciate i like, spollicciate, fate tutte quelle robe lì che vi piace fare su YouTube, quindi fatelo anche sul nostro video e soprattutto condividete e commentate anche dicendo quale volete che siano i prossimi contenuti nel prossimo video e anche qual è la vostra armatura romana preferita o qual è la vostra armatura del mondo antico preferita. Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo!